Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti, da Massimiliano Spiriticchio al microfono, Natascia, la parte tecnica è da tutti noi di Radio Speranza in blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara, Penne. In chiesta in procura a Larino e tavolo tecnico a Termoni coordinato dalla Capitaneria di Porto con il Comune, i Vigili Urbani e i Vigili del Fuoco dopo il ritrovamento in spiaggia di un container con sostanze nocive. Il tavolo avrebbe accertato che in quel tipo di container vi è generalmente un liquido prodotto da una ditta estera ceduto ad una società italiana. Sul container un'etichetta con il nome della multinazionale con sede a Cepagatti, in provincia di Pescara. Era stato scoperto sulla spiaggia di Termoli da alcuni appassionati di atletica leggera. Si lavora ora per rimuovere lo stoccaggio in sicurezza. Garantire la sicurezza degli oltre 1000 residenti della località Molino San Nicola di Ebellante attraverso una procedura aperta che consenta di intervenire in tempi rapidi è la priorità assoluta per il presidente della giunta regionale abruzzese, Luciano D'Alfonso. Lo stesso presidente ha garantito che al più presto sarà modificata la convenzione in atto tra regione e rete ferroviaria italiana prevista per eliminare alcuni passaggi a livello. Nello specifico sarà inserita un appendice che riguarderà la realizzazione di un sottopasso ciclopedonale nello stesso quartiere di Molino San Nicola. Ancora problemi al porto di Pescara. La petroliera Galatea ieri non ha potuto raggiungere la banchina commerciale e dopo due tentativi è stata dirottata in rada. Domani partirà, oggi appunto è partita invece alla volta di Ancona. Causa del mancato approdo alle recenti mareggiate che, come conferma la direzione marittima Abruzzo-Molise, hanno ridotto la profondità delle acque. La Capitaneria di Porto ha chiesto al provveditorato alle opere marittime una ricognizione urgente dei fondali in vista dei lavori di dragaggio previsti questo mese. Proseguirà domani l'appuntamento con la Befana del Vigile l'iniziativa di solidarietà organizzata dalla Polizia Municipale di Montesilvano da 15 anni. Gli agenti saranno dalle 8.30 alle 20 nel centro commerciale Oasi di Montesilvano per raccogliere le rate per la mensa dei poveri montesilvanesi, appunto, mensa di Via Lanciano. La spesa solidale è stata fatta anche da sindaco e vicesindaco. L'anno scorso gli agenti raccolsero 11 quintali di alimenti, consegnarono un assegno di 1.200 euro alla casa madre Esther di Pineto e sonvenzionarono il progetto di genitorialità in carcere e i colori dell'amore presso la casa circondariale di Lanciano. Attiva ha ben collaborato ad affrontare la difficile situazione generata nei giorni scorsi dalle condizioni atmosferiche. La Municipalizzata dell'Igiene Urbana è infatti intervenuta con uomini e mezzi per coadiuvare nell'opera di ripristino, cioè di ritorno alla normalità, che si è resa necessaria negli ultimi giorni di dicembre a causa della neve, del vento fortissimo e delle mareggiate. Lo afferma l'assessore all'ambiente del Comune di Pescara, Paola Marchegiani, commentando l'operato dell'azienda in occasione delle recenti ondate di maltempo. L'assessore al commercio del Comune di Pescara, Giacomo Cuzzi, replica le critiche del presidente della Confcommercio locale, Ezio Ordizzi. Il dispositivo, attuato per consentire il consumo sul posto e l'occupazione di suolo pubblico delle attività commerciali, dice Cuzzi, è un modo per favorire il commercio seguendo la scia delle liberalizzazioni a livello nazionale e l'esempio di molte città italiane che vivono di commercio, turismo e valorizzazione dei prodotti e delle unicità territoriali già da tempo. Fra queste ci sono sia molte città vicine a noi, oltre alle pioniere storiche di novità ed accoglienza come Ravenna, Rimini e Riccione. Il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, annuncia che presto incontrerà il nuovo consiglio di amministrazione dell'ente manifestazioni pescaresi e spiega il criterio seguito per nominarne i componenti. L'amministrazione ha ritenuto di dare priorità alle specifiche competenze in campo culturale e artistico, privilegiando, fra quelle pervenute in risposta al bando, le esperienze che consideriamo più varie e rappresentative maturate nel settore, precisa il sindaco, augurando buon lavoro al presidente Raffaele De Ritis e al nuovo CDA. L'appuntamento organizzato dall'Arcidiocesi di Pescara Penne con la marcia per la pace è previsto per sabato 24 gennaio alle 19.30 con partenza da Piazza Salotto a Pescara. E domani in Piazza Salotto a Pescara, in occasione del concerto dei Tiro Mancino, ci sarà anche un centro di informazione raccolta fondi in favore della piccola Iaia, la bambina di sei anni di Roccaraso, che aspetta di continuare la sua lotta contro una particolare forma di neuroblastoma, affidandosi alle cure dell'equip del Memorial Sloan Catering Cancer Center di New York. Per darle questa possibilità è scattata una catena solidale animata da famiglie, amici, conoscenti e persone sensibili alla sua storia e alla sua causa. E domani alle 18 in Piazza Garibaldi a Pescara ci sarà il presepe vivente, a conclusione della mostra dei presepi che si è tenuta in questi giorni che è ancora in corso presso il Circolo a Ternino, sempre in Piazza Garibaldi a Pescara. Mostra alla quale partecipa anche la nostra emittente Radio Speranza, con due presepi che sono stati allestiti per l'occasione. E sempre domani alle 17.30 al bivio di Brecciarola ci sarà l'arrivo dei Maggi e quindi nell'occasione si potrà visitare anche la mostra relativa al presepe vivente. E siamo al meteo. Stasera su Pescara e Provincia si prevedono sulla costa cielo sereno con temperature da 4 a 6 gradi e nelle zone interne cielo sereno con temperature di circa 3 gradi. Domani sulla costa si prevedono cielo parzialmente nuvoloso con temperature da 2 a 10 gradi e nelle zone interne cielo parzialmente nuvoloso con temperature da 2 a 9 gradi. I venti sono previsti da deboli a moderati stasera e deboli domani. Il mare è previsto da mosso molto mosso stasera e da poco mosso a mosso domani. era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario da Massimiliano Spiriticchio al microfono Natascia alla parte tecnica e da tutti noi di Radio Speranza in Blu la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne grazie per essere stati con noi e a risentirci. Abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica.